Il liceo artistico musicale e coreatico Boccioni-Palizzi presenta i contributi realizzati in questi mesi di didattica a distanza qui montati. In occasione della settimana della musica promossa dal polo dei licei musicali e coreatici della Campania e dall'ufficio scolastico regionale della Campania, si è cercato di sopperire alla mancanza della presenza e della condivisione della socialità attraverso le pratiche musicali. Realizzando i video che vedrete dopo questa presentazione, i nostri alunni e i nostri docenti hanno costruito un nuovo spazio didattico, fatto di prove a distanza, registrazione audio e video, un percorso di studio diverso dal solito, per provare a trarre un inaspettato beneficio da questo momento di difficoltà. I tre video di musica d'insieme, esempi delle molteplici esperienze e pratiche messe in atto dall'indirizzo musicale, come il duetto Stavat-Mater-Dolorosa, dallo Stavat-Mater di Giovanni Battista Vergolesi, qui reinterpretato in una versione per voci, pianoforte, clammi in cimbalo, ensemble, a plettro. Una trascrizione del primo movimento della Sinfonia numero 25 di Mozart, che ha visto coinvolti più di 25 alunni, di tutte le classi del corso di indirizzo. La canzone Carcere e mare di Giovanni Battone è una versione composta per l'occasione, che vede alternarsi più voci, che evocano parole di speranza e libertà, in dialogo con un ove, una chitarra, archi, mandolini. Si ringraziano gli alunni, le famiglie, i docenti e tutto il personale della scuola, che anche in un momento così complesso e delicato, dedicano il proprio tempo alla diffusione dell'amore per le arti. La canzone Carcere e mare di Giovanni Battone è una versione, La canzone Carcere e mare di Giovanni Battone è una versione, La canzone Carcere e mare di Giovanni Battone è una versione, Grazie a tutti. 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 Grazie a tutti.